1682-1771, una data, due date, una data di nascita e una di morte. Parliamo di Giovan Battista Morgagni, anatomo patologo forlivese, che ha dato il nome anche a una piazza, che ha dato il nome a tante cose e che è un personaggio molto importante della nostra città e della nostra storia. Per parlare di lui e di quello che si sta facendo con lui e su lui e per lui e per noi, ho qui la dottoressa Tiziana Rambelli, che è dirigente della USL e coordinatrice della comunicazione su un progetto bellissimo. Si tratta di un docufilm e qui mi fermo perché c'è tante cose da raccontare. Grazie di essere venuta Tiziana. Grazie a voi del mio invitato. E parlaci subito che cosa è successo. Il successo comincia da Padova, anzi comincia nel 1800. Vai tu adesso, racconta. Niente, i forlivesi avevano cercato da sempre di recuperare un pezzo del Morgagni, diciamo. Nel 1800 il sindaco di Forlì aveva chiesto a Padova dove Morgagni è morto, perché Morgagni è morto a Padova. Ha insegnato a Padova, andandosene via dall'Università di Bologna e praticamente gli era stato negato la possibilità di ottenere una parte del corpo del Morgagni, in quanto non era possibile identificare i resti in maniera corretta. Nel 2014 notiamo un articolo del Gazzettino di Padova, mi pare, comunque un giornale locale di Padova, che diceva che appunto erano stati identificati con certezza i resti di Morgagni con la prova del DNA. Il professor Gaetano Tiene, appunto grandissimo nanotompatologo, aveva identificato questo cranio, comparandolo a un altro cranio di un parente sicuramente del Morgagni sepolto nella stessa tomba e quindi avevamo il cranio del Morgagni. Allora io mi misi in contatto allora con l'Università di Padova, poi anche con altri forlivesi interessati alla questione, in particolare il patologo Luca Saragoni di Forlì, che lavora attualmente nell'Unità Operativa di Anatomia Patologica, e pensiamo di proporre all'azienda USL un recupero non solo storico, ma proprio un recupero anche mediatico della figura del Morgagni, attualizzandolo, cioè coinvolgendolo da subito le scuole, il liceo classico, il scientifico, il liceo classico è dedicato a Morgagni e l'ospedale è dedicato a Morgagni, e poi partire proprio con un progetto di comunicazione moderno su questa figura, perché secondo noi era poco conosciuta, perlomeno conosciuta solo agli addetti ai lavori, molto conosciuta all'estero, se volete dopo vi parlo anche di quanto è conosciuta, in America c'è una Morgagni Society, che è una delle più importanti società mediche che noi abbiamo contattato, anche perché era una cima, voglio dire, nel suo genere, e anche perché John Morgan dall'America venne in Italia per conoscere Morgagni. Certo, certo, e una cosa da tutta questa vicenda, da queste scoperte, è nata un gruppo che si chiama, e che cosa fa? Allora, dunque, prima di tutto è nato questo progetto, il progetto Morgagni, è nato un sito su www.morgagnipatologo.it, fatto dalle scuole, e dopo il sito, il convegno fatto dalla fondazione nel 2015, sulla figura del Morgagni, insieme a tutti gli studenti, è nata anche la proposta di creare un gruppo, AUS Romagna Cultura, riteniamo il primo in Italia, un gruppo interno alla USL, che si occupa di cultura. L'idea è nuova, anche se… È nuovissima, ma anche molto bella questa idea, perché poi mi hai detto un sacco di cose, che poi rivedremo più avanti. Anche se si basa su un'esperienza che l'Emilia Romagna aveva fatta per prima, nel 2003. L'Emilia Romagna nel 2003 ha deciso di valorizzare tutto il patrimonio artistico delle aziende sanitarie, un patrimonio immenso, artistico, archivistico, immobiliare, e quindi va creata una rete di referenti in tutta l'Emilia Romagna, esperti… Semi sconosciuto, peraltro. Sì, esperti, che hanno rivalorizzato questo patrimonio, l'hanno catalogato, dopodiché c'è stato un po' di stop su questa situazione, però sono rimasti i referenti. Allora è venuto in mente di proporre alla USL un gruppo che riutilizzasse i referenti, noi parliamo della Romagna, della USRomagna, in più aggiungesse due nuovi settori, che sono un è appunto il patrimonio, un altro settore sarebbe stato quello della comunicazione del patrimonio, un altro proprio sulla storia della medicina dei grandi medici romagnoli, perché c'è Morgagni, ma c'è Bufalini, c'è Mercuriale… Inventore della patologia moderna, grosso modo, no? E ha anche definito sua maestà anatomica, Morgagni, era accademico in tutte le principali accademie di Parigi, curava re, curava papi, ed era forlivese e tornava sempre a Forlì, quindi non è un forlivese scappato e poi mai più tornato. Quindi abbiamo creato questo gruppo che ha dei referenti, coordinatori, per il patrimonio la dottoressa Sassone Muzzarelli che è un'esperta di storia dell'arte, per invece la storia dei medici, la parte più scientifica è il dottor Stefano De Carolis e io ho la parte della comunicazione, che spero di sviluppare anche dal punto di vista informatico, perché vogliamo anche valorizzare tutta la parte web. Certo, perché è importantissimo, oggi come oggi si viaggia solo quasi esclusivamente sul web. Ecco, arriviamo all'idea del film che ha una prospettiva incredibile e di cui faremo vedere poi qualche parte leggermente ripresa e grazie a Dio ce l'ha data e poi lo vediamo. Alcune immagini si vedono già adesso. Cosa è nato? Allora, dopo il convegno, dopo il sito abbiamo pensato che la terza parte era la realizzazione di una docufiction storica. Grazie ai contatti che avevamo con il bravissimo regista Cristiano Barbarossa, già regista Rai, Superquark, Fratello di Luca Barbarossa, regista appunto già di Superquark, di Rai e di numerose realizzazioni, tutte nazionali e internazionali. Abbiamo preso contatto con lui, Cristiano Barbarossa ha accettato di realizzare il film insieme all'attore protagonista che farà il Morgani, che è Riccardo Mei, notissimo doppiatore di Superquark, Geo, con una troupe importante anche che collaborava con Cristiano Barbarossa. Abbiamo trovato chi ci ha creduto, l'Istituto Oncologico Romagnolo, Formula Servizi. Esatto, collaborazione avete, sì. No, ci ha proprio aiutato. La fondazione, il comune, eccetera. La fondazione e il comune hanno collaborato, proprio il contributo diciamo economico importantissimo e non pubblico perché volevamo fare questa cosa proprio senza investire un soldo. Esatto, anche se secondo noi avrà un grandissimo impatto anche didattico, sarà una cosa molto importante per la valorizzazione del territorio e anche per dare un messaggio veramente ai giovani dal punto di vista culturale. Però l'Istituto Oncologico Romagnolo e il Formula Servizi e anche Stados Cafè, tutti i forlivesi hanno creduto in questa cosa e ci hanno aiutato e siamo partiti. Quindi abbiamo iniziato le riprese l'anno scorso con tutta la troupe, riprese in parte in costume, in parte invece ambientate in scenari moderni come l'Istituto Oncologico Romagnolo e l'ospedale di Forlì e il liceo classico. Quindi sono dalle gare poi tutte le tante che questo lo farà poi. L'unico attore protagonista, cioè l'attore professionista è Riccardo Mei, gli altri sono tutti comparse, moltissimi giovani, abbiamo fatto un casting riuscitissimo perché da tutte le parti della Romagna sono venute persone per poter recitare gratuitamente. Tu sei una... No, io sono dietro, ma non ho voluto partecipare, però riconoscerete molti volti noti anche della Romagna. Immagino. No, no, io preferivo, questa era una cosa che amavo... Per stare dietro le quinte, insomma. Esatto, però è riuscita benissimo, ci siamo divertiti tantissimo, ci sono divertiti tantissimo anche gli attori. Sta girando da quanto? Allora, hanno girato nel novembre del 2016, hanno girato all'ospedale di Folia List, importanti posti di tipo storico quasi sconosciuti come l'Oratorio di Sant'Onofrio di Lugo, bellissimo, di proprietà della USL, quindi cosa abbastanza sconosciuta ma bellissima, dove è stato realizzato lo studio del Morgani, la Biblioteca di Faenza, bellissima, il Palazzo Milzetti che è il Museo del Barocco. Quindi selezionato una serie di ambientazioni e location importanti. Dopodiché abbiamo selezionato questi posti, quindi molto nel Ravennate paradossalmente, perché a Forlì abbiamo guardato alcune location, vedrete via Gaddi, però questi luoghi erano completi, diciamo, già attrezzati, arredati. Poi siamo andati anche nel Moderno con Riccardo Mei vestito da Morgani, vedrete, per dare anche un messaggio, tutto parte da ragazzi, giovani studenti che si domandano chi è il Morgani e tutto finisce nella nuova sanità della Romagna, che comunque è a livello, diciamo, manda un messaggio di livello molto alto, come mandava Morgani, perché Morgani era talmente famoso che vennero dall'America, John Morgan, per conoscere Morgani nel 1700. Quindi una cosa… John Morgan è il fondatore della medicina americana. Certo. Noi abbiamo trovato che questo John Morgan venne qui solo per conoscere Morgani, quindi abbiamo un cittadino… Il cittadino illustrissimo, forse non ci rendiamo neanche conto di quanto fosse illustre e bravo, voglio dire, oggi come oggi, di solito si dimentica, qui sono i cittadini illustri, lui ha fatto delle cose incredibili, poi basta dire che è il padre della patologia moderna, non è una cosina da ridere. Torniamo al film, perché per oggi ci fermiamo solo al film, poi dopo mi deve raccontare un sacco di cose che ho sentito prima, ma non le voglio svelare, lo faremo nel prossimo incontro. Il film che percorso avrà? In tanto che punto è? Adesso abbiamo fatto un trailer presentato al meeting di Rimini, peraltro, abbiamo presentato al meeting di Rimini in agosto, un'anteprima, il trailer è stato diffuso anche in tutti gli ospedali, anche per dare in un certo senso un'attesa di questa cosa e per far vedere che era una cosa della Romagna e dopodiché, dopo questo trailer, adesso il 23 novembre presenteremo durante una riunione dei stati generali dell'USL, un estratto più lungo alla fine di novembre con l'università, perché dopo, ecco questo vorrei accennarlo, è collaborazione con l'università, perché il gruppo USL-Romagna Cultura ha creato una convenzione con il Dipartimento dei Beni Culturali di Ravenna, una vera e propria convenzione, anche in questo caso pensiamo che sia un unicum in Italia, di rapporto scientifico-culturale con un Dipartimento di Beni Culturali, quindi non con una facoltà di medicina, il gruppo Cultura è convenzionato con l'università e con loro vogliamo che non sia soltanto una convenzione formale, abbiamo già in mente di fare varie iniziative, anche proprio didattiche di insegnamento, di valorizzazione del territorio e in questo caso è Ravenna che verrà a Forlì e Forlì che andrà a Ravenna e poi ci sono anche Cesena, Rimini, ovviamente, però questa convenzione è importantissima, quindi lo presenteremo con l'università, presenteremo un estratto del film a tutti i dirigenti dell'USL, poi più o meno a gennaio insieme agli sponsor, insieme all'università, insieme al Comune, alla Fondazione, Cassa di Risparmio di Forlì, presenteremo il film a Forlì, più o meno a gennaio e poi dopo a Forlì e anche i Ravennati vogliono avere l'anteprima perché i loro luoghi sono stati ampiamente, dopo di che andrà in onda su una rete nazionale, che ancora non svegliamo ma vi diremo, però su una rete nazionale, andrà in onda tutto il film e poi c'è anche un'altra idea, quello di tradurlo in inglese, perché abbiamo già i contatti appunto con New York, perché la Morgani Society vorrebbe avere il film in inglese, anche perché a Columbus Day porta lo standardo di Morgani, perché è importantissimo per gli medici italo-americani, è proprio stato considerato il patrono dei medici italo-americani. Non è poco, mi sembra che vediamo già delle immagini, c'è anche un fotografo che ha fatto delle foto, avete fatto un libro, qualcosa, un opposto? Allora, oltre al film è nata da parte del dottor Giancarlo Cerasoli, conosciuto storico della medicina, nonché pediatra, nonché componente importantissimo del gruppo AUS Cultura, il dottor Cerasoli ha proposto la realizzazione di un volume con scritti inediti, al quale hanno collaborato pressoché tutti gli storici locali e anche di fama nazionale sul Morgani. Il libro di cui vedete alcune immagini pubblicherà anche delle traduzioni e anche un contributo di Cristiano Barbarossa che ha spiegato la DocuFission e conterrà anche il backstage delle foto fatte durante la registrazione del film. Il volume in questo momento, abbiamo fatto un piccolo puscolo di presentazione, sta cercando anche altri sponsor, però sicuramente vedrà la luce nel 2018, in questo momento gli sponsor sono Formula Servizio e The Status Café che sono anche quelli della DocuFiction, ma stiamo cercando altre collaborazioni perché comunque resta il libro su Morgani e appunto è insieme alla DocuFiction e anche quello verrà presentato insieme alla DocuFiction probabilmente. Ho capito, per fare tutta questa cosa facevamo un'organizzazione incredibile. Non siamo tanti invece, però molto appassionati. Ecco, mi sembra che sia stato distribuito il gruppo in tre gruppi, ecco, insomma, come... Quelli che dicevo prima, cioè proprio la valorizzazione del patrimonio, tra l'altro è una delibera del direttore generale, quindi di fatto oltre al volontariato, perché scusami se faccio questa digressione, ma già la Usforlieve ha fatto qualcosa di particolare valorizzando il volontariato come una parte integrante dell'azienda. Secondo me volontariato e cultura sono veramente due parti molto importanti della cura, non sono due accessori, fanno parte perché nelle nostre aziende tuttora, adesso il centro del studi volontariato si è sviluppato nella Romagna, moltissimi medici fanno volontariato e quindi riconoscere che questo fa parte della cura come la cultura, perché la cultura fa parte della cura. Beh, è un concetto nuovo e importante. Sì, secondo me è molto importante e noi parliamo del film, dentro questo gruppo c'è la valorizzazione del patrimonio, la valorizzazione dei medici e di tutte le ricerche e la parte proprio più scientifica, ma anche culturale dell'azienda e poi c'è la comunicazione, sono queste le tre anime. Probabilmente aumenteranno, perché abbiamo moltissime richieste anche con della sovrintendenza, entrerà l'università, entreranno anche parti, perché la USL tu sai si occupa anche per dirti di animali e anche su questo c'è una cultura, una storia, forse ci saranno degli sviluppi anche su questo e anche dal punto di vista architettonico, perché abbiamo richieste di persone che vogliono collaborare, noi siamo disponibili a tutte le collaborazioni anche perché secondo noi tutti, e noi vorremmo anche legarci, ecco lo faremo nella presentazione del film probabilmente, a tutti gli enti che in Romagna fanno cultura, perché qui abbiamo le mostre, abbiamo la fondazione, a Forlì in particolare c'è questa vocazione culturale, quindi università, fondazione e a USL che comunicano cultura, questo è un po'. E questo è importante, e c'è da dire che insomma su questo nome, Giovanni Battista Morgagni si sta aprendo un macrocosmo di interessi, soprattutto la cosa che mi ha fatto pensare è questa capacità, che ci sia una ricchezza di patrimonio artistico e culturale all'interno della USL, che forse nessuno se l'immaginava, sì tu mi dicevi prima di entrare in studio che ci sono state donazioni, che ci sono delle chiese, che poi sono rimaste, tra l'altro mi dicevi anche che c'è una collaborazione col FAI, in particolare nel Ravennate perché la dottoressa Muzzarelli, quella che ti dicevo prima che è la responsabile del patrimonio laureata in conservazione, la dottoressa Muzzarelli ha fatto un'opera grandissima, soprattutto nel Ravennate, di collaborazione col FAI, con tutte le fondazioni che facevano recupero di opere, lei apre alle scuole questi beni, anche lei personalmente come USL, questo oratorio di Lugo, e in tutti questi luoghi lei ha fatto un opuscolo, ha fatto degli opuscoli che potete trovare sul nostro sito, che adesso stiamo perfezionando, per tutta la Romagna, tutti i luoghi artistici della USL avranno una descrizione, abbiamo già un opuscolo che ha realizzato lei, e con anche un codice a barre, un codice QR per poter recuperare le informazioni sui beni, perché sono misconosciuti e sono bellissimi, cioè l'oratorio di Sant'Onofero quando siamo entrati con le telecamere, è una cosa, ma non c'è solo quello, ci sono beni, ci sono già a Forlì, se voi vi ricordate, dentro l'ospedale in parte queste opere più moderne sono state collocate in un percorso, sia nel giardino che dentro, però noi cerchiamo di farlo in tutti i posti, perché veramente c'è un patrimonio bellissimo, e presto appunto anche inserendo la sovrintendenza, questi architetti che ci sono, cerchiamo di recuperarlo e anche di aprirlo, perché come ben sai anche il FAI fa questa cosa, se tu apri una cosa vive, se tu chiudi e lo lasci in uno scantinato la cosa non esiste più. Adesso c'è la seconda operazione, avete trovato tutte queste cose, avete scoperto queste cose, state organizzando, vi state muovendo, adesso è importante, ed è importante questo fin, il coinvolgimento, cioè coinvolgere altri interessi, ma soprattutto anche il pubblico, i cittadini, la conoscenza di questo patrimonio, no? Sì, poi all'atere di queste cose stiamo appunto spingendo molto con le scuole, abbiamo fatto entrare le letture a voce alta in ospedale. Ecco, che tipo di attenzione ricevete da parte delle scuole? Allora, le scuole superiori subito, professori bravissimi, adesso io cito solo alcuni perché non li ricordo tutti, ma comunque il professor Casali dello Scientifico, la professoressa Micelli del Classico, subito, perché ci occorrono insegnanti con la passione, perché altrimenti qui spendevano tempo per creare questi siti. Anche perché gli studenti colgono subito se non c'è passione. Sono venuti 150 ragazzi al convegno della fondazione su Morgagni, hanno fatto il personaggio Twitter sul Morgagni, hanno fatto il personaggio Facebook. Il web viene molto usato, vero? L'hanno creato loro, l'hanno creato loro e facevano delle dirette su Morgagni, prima nessuno sapeva, hanno fatto il personaggino, però erano 150 ragazzi che sono stati lì due ore e mezza al convegno su Morgagni. Tra l'altro, in questa operazione ci ha aiutato molto anche il giornalista, diciamo all'inizio proprio e soprattutto Salvatore Giannella, che è il giornalista di Milano, direttore dei Lune, perché ci ha dato l'idea anche proprio di coinvolgere le scuole, lui è un amico dell'ospedale di Forlì e quindi ci ha aiutato, però volevo dire appunto le scuole, liceo scientifico, poi abbiamo coinvolto, ma diciamo che è stata immediata l'adesione, anche delle scuole elementari, le scuole elementari stanno venendo in ospedale a fare delle letture, esperienza già nota in Italia, però stiamo aprendo in maniera del tutto, diciamo senza un progetto definito, però stanno proprio aderendo naturalmente, quindi stanno entrando in ospedale e poi li stiamo coinvolgenti in tutto, perché il film è stato realizzato con giovani studenti. E fin quanto dura Tiziana? Alla fine, non lo so, però dovrebbe essere più o meno un'ora, alla fine, perché è una docu fiction, quindi per metà reale, per metà in costume, quindi alla fine un'ora. L'idea sarebbe quella di farla su altri personaggi, ti dico la verità, anche se è stato uno sforzo grandissimo. Molti anni fa si fece sul Passatore Cortese, Stefano Pelloni, si fece proprio qui, girata, qui fra Ravenna e Forlì. Ma che personaggi ne abbiamo tanti e queste cose attirano moltissimo. All'estero, ti dico subito, in America quando abbiamo detto questa cosa, peraltro abbiamo contattato anche il viceconsole che è di Forlì, Tesorieri, il viceconsole in America e subito ha detto noi vi diamo tutta la disponibilità, perché chiaramente valorizzare un personaggio che tra l'altro era già no, perché pensa, adesso faccio solo una digressione, Morgagni scriveva in inglese nel 1700 ai medici. Alcune volte il latino, i ragazzi hanno tradotto da latino, ma lui scriveva in inglese, parlava inglese, francese, 1700. La mattina faceva una sorta di rassegna stampa su tutti i giornali che gli arrivavano, cioè un personaggio modernissimo che scriveva, il dottor Cerasoli poi appunto lo racconta bene quando parla di questa cosa, lo racconta nel senso che appassiona molto, ma un suo testo, che i ragazzi sono rimasti subito affascinati, in un suo testo diceva ai giovani, un bellissimo discorso che fece, i giovani, appunto i giovani del primo anno di medicina, diceva non dovete credere a quello che vedete, dovete sempre cercare la verità, non dovete credere né a quello che vedete né a quello che vi dicono, cercate la verità sempre, un discorso molto moderno, perché allora c'erano influenze di ogni tipo sulla ricerca della verità, e invece, e comunque si dice che appunto la maggior parte delle parti anatomiche avevano il nome dato da Morgagni, perché fu un rivoluzionario, assolutamente, oltre che archeologo e oltre che geografo, perché in questo libro troverete anche che Morgagni aveva fatto praticamente una mappa di tutta Forlì, quindi un personaggio Leonardo Berlusi. Voglio dire, vogliamo arrivare a usare una parola, un genio nel suo genere, no? Voglio dire. Un genio. Assolutamente, perché poi, come dire, si muoveva su tutti i fronti. Volevo chiederti una cosa, ci sono stati evidentemente dei costi, non vogliamo sapere quanto, che cosa verrà a costare, poi i costumi, come sono stati creati e da chi? I costumi sono stati tutti portati da Roma. Da Roma. Da Roma, direttamente dallo scenografo Carlo Del Giudice, scenografo, costumista, truccatore, lui è uno scenografo, però ci ha veramente aiutato, perché sono venuti in pochissimi, hanno fatto una cosa meravigliosa. Ma questa gente lavora gratis, no? Guarda, non ha preso, cioè è stata veramente una cosa appassionante, non hanno preso niente rispetto a quello che vedrete. No, ma certo, immagino. E vedrete anche che la cosa molto bella è stata, per dirti una cosa piccola, ma abbiamo avuto anche una collaborazione gratuita di truccatori tipo la Pollonia Tolo, che è conosciuta a Forlì, perché lei spesso ha seguito anche a livello nazionale, una forlivese, ed è venuta anche qui gratuitamente col suo gruppo. Poi sono venuti dei ragazzi dell'istituto artistico, che fanno trucco, sì, scenografia, per vedere come lavorava questo truccatore, perché questo è un truccatore rai, e quindi venivano a vedere, lo aiutavano, perché siccome appunto il budget… Per imparare anche, certo. Sì, quindi è stato anche un set di insegnamento, siccome il budget non era illimitato, noi non abbiamo potuto fare delle ricostruzioni al computer, quindi veramente ha fatto le ferite come si facevano una volta, col silicone, cioè ha fatto tutti dei trucchi impressionanti. Sì, perché poi nel trailer e nella docufiction, come dire, lui fa anche delle dimostrazioni. Ecco, tra l'altro, posso raccontare un episodio abbastanza da ridere, per poter trovare il morto, abbiamo usato una persona ovviamente viva, e c'è stata una selezione grandissima, perché una marea di gente voleva fare il cadavere, io non so perché, però… Questo è fantastico. E questo, tra l'altro il lavoro di trucco per il cadavere è stato grandissimo, perché doveva fare tutte le ferite della malattia, quindi c'è stato tutto questo episodio, perché adesso fare i vivi è abbastanza semplice trovare qualcuno… Adesso fare il morto non è… I costumi ci sono stati, tra l'altro è stato lunghissimo il lavoro di adattamento dei costumi. Tu hai assistito… Sì, 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 a tutte le riprende, tutto. È stato molto bello, in vari luoghi, è stato molto bello perché è veramente divertente. Poi abbiamo avuto la collaborazione… I cavalli, per esempio, c'è la cooperativa Raggio di Sole di Forlì, la cooperativa anche che fa aiuto ai disabili… E quindi avevamo… Eriano anche… È tutto… Vedrete il parco… In costume, chiaro. Il tempo sta scadendo, io ti dico già da adesso che ti richiamerò… Grazie. Che mi racconterai di tutte queste altre cose, di questo mondo che si è aperto così. Finiamo, Tiziane, ti ringrazio per essere venuta… Grazie a voi. Grazie. E ti dico in bocca al lupo… Grazie. Per il lavoro e l'entusiasmo. Grazie. Che ci metti e si vede, si sente. E chiudiamo con alcune immagini della docu-fiction che stanno girando, così vi rendete conto di che cosa sta succedendo. Grazie ancora… Grazie a voi. Grazie a voi per l'attenzione. Morgagni era un uomo profondamente religioso. Il professor Morgagni è stato un rivoluzionario. Dei dieci figli rimasti, otto femmine fecero tutte la scelta di monacarsi giovanissime. Morgagni operava in un contesto particolare, che era lo stato pontificio. Le autopsie erano un vero e proprio spettacolo. Si mise in contrasto con i professori che lo accusarono di ammorbare l'aria con le esalazioni pestifere delle sue autopsie. Come possiamo osservare? Aprendo il cranio di questa ragazza, che dopo il diniego all'ingresso a Chiostro era caduta in uno stato di delirio, dapprima malinconico e poi maniaco. Nel suo cervello troviamo dei piccoli corpuscoli biancastri, alcuni rotondi, altri oblunghi, certuni di forma irregolare. Per le minacce alla sua vita Morgagni è dovuto emigrare. Ma questi studi si basano sulla profanazione di un cadavere. Morgagni va immaginato come un uomo solo, perché era lui l'innovatore, era lui lo scopritore del momento. Vuole rompere assolutamente con quella che è la concezione dell'epoca, legata ad una malattia quasi calata dalla divinità. La sua urgenza di comunicare alla comunità scientifica settecentesca quelli che erano gli esiti del suo viaggio all'interno del corpo. Già nel 1700 aveva capito perfettamente l'importanza dei rapporti internazionali. No. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti